Grazie. 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 Buonasera. Benvenuti all'incontro che l'associazione contemporanea in collaborazione con l'amministrazione comunale propongono incontri con l'autore. Grazie. 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 stanno costruendo una società post-umana con l'appretazione di Umberto Gallimberti. Io vi ringrazio per essere così numerosi e passo la parola direttamente a Paolo Alconano che, cogiunato nella presentazione da Barbara Lazzarì e Berlino Gesso, ci approfondiranno e approfondiranno i tempi di rapporto io davvero. Grazie. Grazie a tutti, effettivamente, di essere così numerosi. Vi dico subito che noi abbiamo, no, in realtà mi assumo io la responsabilità perché è la verità, che ho avuto un'idea che credo sia quantomeno diversa rispetto al solito, cioè che non parlerà l'autore, in forma di animazione, e ho cercato di far leggere questo libro che, per quanto riguarda il libro più complesso che abbia scritto, di farlo leggere due persone di cui ho stima, profonda stima, vedere quali potessero essere le reazioni suscitate dalla lettura del libro. Vi dico subito che noi ci siamo messi d'accordo, io non so cosa dirai, spero che sia un libro perché, se no, sarebbe anche un po' imbarazzante. E niente, quindi l'idea è questa, cioè quella di provare a consegnare un libro fortemente polemico, fortemente avocalittico, come dice che non ho iniziato, uno di quei libri che, insomma, si accompagna nel posto 2012, che qualcuno dice sarà il nostro ultimo anno, speriamo che no. E vedere, appunto, le relazioni, vedere le suggestioni che eventualmente ha creato la lettura del libro, ho chiesto loro, che sono due persone estremamente dotte di, insomma, non seguire per forza il libro, ma anche di inserire delle loro suggestioni, delle loro intuizioni. Quindi, se siete d'accordo, io lascerei immediatamente la parola a tutti due del libro che abbiamo pensato. Proverò poi, io alla fine, a dire qualcosa, ma in maniera estremamente breve, vorrò essere solo un punto polemico e basso, e poi speriamo di poter interlocuire con voi, insomma, di poter avere da parte vostra delle suggestioni, delle critiche, delle polemiche anche, che sono sempre benvenute in questa epoca così piatta. Quindi io lascio per prima la parola alla professoressa Barbara Lazzarini e vi chiedo magari di farvi un applauso perché, insomma, la prima volta del pubblico, con un pubblico insomma così ampio, la stessa cosa vale per l'Erominia, quindi saranno un po' agitate. Grazie a tutti. Buonasera. La premessa che ha fatto Paolo, in effetti, era doverosa, perché io e in l'Erominia siamo qui in istituzione di Lettrici e per quello che mi riguarda ho scelto di fare una sorta di premessa nel testo, perché immagino che qui molti di voi non l'abbiano letto. Il testo è un testo che solleva grandi questioni, un testo che solleva questioni che sono passibili, poi di essere ampliate in numerosissime direzioni. Il titolo è da subito, come dice Paolo, un po' polemico, ma secondo me lo è apparentemente. In realtà io non tengo una polemica nella volontà di mettere in luce una questione che porta avanti sempre nel libro della prima pagina l'autore. e la questione è perché l'uomo scelga molto spesso, cioè scelga quasi sempre di non essere autonomo. Questa mancata autonomia dell'uomo molto spesso non è inconsapevole e l'autore la rintiene in alcune di quelle che Galileo nella produzione chiama figure metastoliche, no? Mi pare che queste figure sono la religione, è la figura più nota in questo senso e si accosta la tecnica, l'economia è da ultima come l'ultimo dio, la rete. Ecco, apparentemente queste quattro grandi cose se li prevederono disgiunte. In realtà la procedura del saggio, cioè il discorso che Paolo porta avanti e lo fa con un linguaggio, devo dire, chiaro, nitido e intelligibile per tutti, pur essendo abbastanza complessa la materia che lo sottende, noi, insomma, questa complessità del saggio ha una sua coesione nel fatto che queste quattro cose, la religione, l'economia, la tecnica e la rete, rappresentano delle stampelle, quindi ci poggiamo, degli idoli più o meno vecchi, più o meno nuovi, che non ci consentono davvero di essere autonomi, cioè di pensare in maniera critica e razionale. La speranza, secondo me, io ho detto un convegno con questa, con la critica che lui fa a citato, ma non mi pare un libro palitico, mi pare un libro realistico, un testo che intravede chiaramente la realtà e che ha anche una speranza in sé, no? La speranza è l'unica possibile nel momento in cui viene chiamato in causa l'umanismo. Almeno questa è la mia visione delle cose, il pensare da adulti è l'unica scappatoria possibile ed è un principio mancato, un illuminismo mancato, che però, pensavo, non può bastare se questo illuminismo è relativo esclusivamente alla ragione. e deve per forza di cose avvalersi di una componente che sia presa dalla coscienza, che sia vicina a quello che può essere l'amore. Io nel mio intervento ho inframmezzato, vi dirò con delle citazioni, e una citazione che avevo scelto era di Ian Arendt, che dice il male più grande che sia stato perpetrato è il male promesso da nessuno, ovvero dagli esseri umani che si rifiutano di essere persone. Ecco, io penso che sia abbastanza consumo a questo discorso che stiamo facendo. e Ercolani scrive che mai come nella nostra epoca le cose contano più delle persone e la vita stessa di queste, le loro scelte, le idee, le passioni, i propositi, la sensibilità vivono incanate all'interno di un ordine di senso che è l'ordine del mercato, che le conosce, scusate, e le valorizza solo nella misura in cui possono produrre un profitto. Anche questo io sono assolutamente d'accordo nella visione del capitalismo, o meno del capitalismo odierno, ma anche secondo me anche del capitalismo nella sua storia. Il capitalismo funziona solo con questa logica di dominio che porta avanti e che è molto suddola. Io credo che bisogna ormai sostituire questa idea di disumanizzazione, che è una disumanizzazione liberista, che è chiamata paradossalmente liberista, che è tecnologicamente avanzata e che mette in campo delle armi e affina proprio per andare contro l'uomo stesso. A un certo punto l'autore scrive che ci prospetta, ma siamo un po' palissimi, siamo spiriti verso l'intera storia preparabile. Credo che non sia possibile non renderci conto di questo. e come evitarlo è la vera questione. C'è un autore che io ho appunto, che è Paolo Pasolini, che ha scritto moltissime cose e io, soprattutto quello che ha scritto, ho scelto una delle sue ultime cose, scritta nell'anno in cui è morto, ed è relativa al significato del suo impianto e riguarda la nuova giocentura. è una, diciamo, se esistono più l'anno, io mi porto ovviamente la parte in italiano, perché trattasi veramente di altra lingua, che sarebbe incomprensibile, e scrive Io mi guardo indietro e piango in paesi poveri, le nuvole e il frumento, il modo di ridere che viene dal cuore, gli occhi che guardandosi intorno ardono di curiosità senza vergogna, di rispetto senza colore. Piango un mondo morto, ma non sono morto io che piango. Se vogliamo andare avanti, bisogna che piangiamo il tempo che non può ritornare, che diciamo di no a questa realtà, che ci attunzi nella sua prigione. E' abbastanza complessa questo passaggio di Pasolini, attraverso il quale l'autore ci comunica il fatto che un mondo fatto di bellezza, di valori, di amore, è sparito, è scomparso. E noi ce ne dobbiamo rendere conto. Questa elaborazione del nostro sito ci serve a non pensare di poter salvare il salvabile, ma ci manda avanti, no? E ci fa pensare più a quello che dice Karl Krauss, che la bruttezza del presente ha un valore destrattivo, cioè da qualche parte deve essere si generata. E quindi, se vogliamo cambiare le cose, abbiamo assoluto bisogno di prendere in mano la situazione politica prendendo tutta un'altra strada. Questa altra strada è sicuramente la bellezza dell'uomo, l'umanismo, no? In effetti Paolo dice che dobbiamo porre al vertice l'intelligenza, la sensibilità, l'autonomia della persona. Scrive anche un passaggio che è sostanziale, quello in cui lui dice questo siamo entrati in un'epoca in cui i meccanismi sociali dominanti hanno bisogno dell'uomo ma non della sua umanità, in cui egli è uno strumento ma non un fine. Questo è fondamentale, cioè quando l'uomo smette di essere il fine per cui si fanno le cose ovviamente è tutto, no? assolutamente assurdo. E per ottenere questo è necessario oscurare come più possibile le sue facoltà più individuali la percezione, l'agire consapevole la capacità critica l'autonomia del giudizio la sensibilità reale. Il passaggio successivo riguarda l'attività svolta dai mass media da ormai molto tempo e dai quelli che possiamo definire i new media nell'ultimo periodo. Queste figure a cui noi siamo molto regati in realtà in gran parte ci guidano, guidano i nostri gusti, le nostre scelte, le nostre capacità decisionali sono sempre più invadenti e erano già state intraviste da alcuni pensatori per cui per esempio di Debord di cui anche Paolo Parma ha spesso riferimento perché nella società scettacolare queste figure messe così in maniera critica rappresentano quasi una profezia dell'era globalizzata e lui parla non solo della limitazione del linguaggio su cui andiamo incontro quindi di tutta una serie di parole che noi usiamo o usiamo e che sono la sintassi nuova del linguaggio scettacolare ma vale proprio della società quello scettacolo che di tali parole sia vale per fare in modo che per noi tutto quanto è assoluto sembri normale la questione della società e dello spettacolo è trattata anche da un sociologo canadese che si riferisce al villaggio globale Debord fa una critica della società diversa che secondo me è più azzeccata rispetto a Necrune cioè lui individua nella quella che profeticamente appunto annuncia essere la mondializzazione la globalizzazione diciamo come vogliamo una sorta di gigantesco villaggio di gigantesco villaggio in cui si perdono i connotati positivi di quella che invece è la città no? la città che fornisce stimoli che attiva la percezione, la cultura che stimola l'uomo e devorsi i villaggi contrariamente alla città sono sempre stati dominati dal conformismo dall'isolamento dalla sorveglianza mestina dalla noia dalle chiacchiere ripetute all'infinito sulle stesse famiglie ecco in questo senso lui ha individuato un abbassamento del livello della società globalizzata rispetto alle capacità politiche e quello che ne deriva è che per esempio l'altra parte di cui parla che questa semplificazione dell'istituto ci porta a legittimare è anche ciò che non sarebbe possibile legittimare e le società odierne presentano di solito modelli molto significati il buono e il cattivo con questa modalità in cui ampiamente nel libro si parla su tutto dell'11 settembre si parla di due l'11 settembre che sono intanto significativi come quello del 2001 che conosciamo tutti quello del 7300 che forse conosciamo un po' meno e comunque adesso lo sconto di città avviene con la prezione del nemico che è il terrorismo e la logica però funziona nel momento in cui non c'è data la piazzaria cosa voglio dire? che secondo me in tutta la sua improponibilità in tutta la sua, non so, pochezza un George Bush che invita alla guerra in ira creava l'atto come comportamento come decisione nel momento in cui è per forza di cose il migliore di Talibani però la piazzaria non la vediamo non ci viene mostrata quindi una prospettiva che sia un'alternativa a Bush o ai Talibani mi aspettano la mostrano questa prassi del terrore serve ad assoparci a ciò che è indonerabile a ciò che è ormai definito persino guerra umanitaria ecco perché dicevo prima che cambia persino attraverso questi meccanismi in tutto il linguaggio il linguaggio viene distorto e un altro autore che Paolo cita in un suo saggio e che io riprendo è uno psicologo che si è occupato moltissimo di società e che se ne è occupato tenendo presente la centralità dell'uomo è assolutamente inumanista ed è from in io riprendo l'uomo scrive quale tipo di uomo chiede la nostra società l'automa l'uomo alienato alienato perché le sue azioni e le sue proprie energie ne sono diventate estranei lo guidano invece che essere guidato da lui le sue energie vitali sono state trasformate in cose e istituzioni e queste cose e istituzioni sono diventate idoli questi idoli in cui parlavamo prima c'è poi tutta una letteratura che si è occupata di mettere il campo che ha dato voce ha dato corpo questo disagio questo senso dell'assurdo e penso a Calvino a quando gli hanno chiesto di dare un aggettivo per l'opera caffiana e lui pensando di pensando ha detto credo che quella di Tappo sia un'opera realista no? per dirvi come quando una sensibilità si mette a pensare si attiva possa davvero scorgere quello che è rispetto a quello che in realtà la gran parte della gente non riesce a vedere ed è assurdo questa dimensione in cui la televisione rode e no? presenta i suoi modelli il nuovo meccanismo della TV stessa per esempio funziona sui Real TV questi no? come si chiamano non so i luoghi di intrattenimento delle persone che rappresentano un saltare su un pacco no? questo teatro dell'assurdo un volerci andare non si sa bene per quale ragione è un potersi vedere e riflettere in una dimensione che è utopicamente l'illusione di avere la condivisione la stessa cosa viene attraverso la rete no? noi siamo convinti che in rete possiamo condividere tutto di essere in connessione con tutto in realtà sistematicamente ci troviamo ad essere sempre più più isolati il discorso rete che nel libro viene affrontato con grande preoccupazione cioè Paolo ritiene che e che con lui molti altri pensatori lo ritiene giustamente lo ritiene precisamente questa questa nuova divinità che è il web perché la rete ci tiene incatenati lì e ci bombano le informazioni che noi non possiamo selezionare e che quindi ci priva della necessaria concentrazione ha a volte delle scappatoie no? delle soluzioni belle che io ho potuto vedere personalmente e c'è a questo proposito un nome che è assolutamente sconosciuto si chiama e ricopiscita e lui è convinto di fare è convinto perché lo fa di riuscire a fare una commissione possibile plausibile necessaria quasi indispensabile tra la letteratura e la rete lo fa con grande convincimento è un autore giovanissimo questo che appunto ripeto sconosciuto che ha dei toni fortemente critici verso la società odierna propone questo uso diverso della rete attraverso le sue abilità tecniche conosce bene la tecnologia questo è un altro problema no? spesso chi si avvicina alla rete non la conosce e quindi ne è completamente invaso senza avere le competenze e questo questo paradosso della convinzione di essere l'uno in condizione con il tutto che è tipico della mi pare che lo dice Kevin Kelly si Kevin Kelly lo ribalta completamente il il discorso della invece del collettivo letterale di Biscitelli il la paratrovitico riguarda tutto quello che dicevo prima l'idea della donna il periodismo è stata completamente deformata l'idea della stessa del grande fratello che ha tradito completamente le intenzioni dell'autore che se l'ha inventato cioè di Giorgio Orwell che invece quel grande fratello aveva decisamente intenzione di confutare di combattere perché era questo meccanismo atroce che privava l'uomo di ogni individualità che mi spiava e che mi spiava mi sorparava con ogni aspetto e questo grande fratello invece è giunto è arrivato e Biscitelli scrive vi voglio leggere un passo perché probabilmente non è appunto tanto conosciuto scrive quando è cominciata? quando è che la macchina è partita e ha cominciato a immobare tutto, qual è che tutti hanno cominciato ad acconsentire? E non è il partito la macchina, il partito è solo l'espressione fisica della macchina, io non lo so, so solo che così all'improvviso, quando ho cominciato a farci caso, a pensare, i libri erano tutti uguali, la musica era tutta uguale, i politici erano tutti uguali, la musica era tutta uguale, i politici erano tutti uguali, i discorsi erano tutti uguali, mentre la macchina diceva di tutto per convincerci che tutto era diverso, che noi eravamo tutti unici e distinti, e ci hanno creduto alla macchina, al sogno della media vita bifamiliare, ci hanno creduto tutti, hanno creduto di distinguersi, comprando un libro al posto di un altro, mettendo su un paio di brani di colore diverso, io so solo che così all'improvviso, non c'erano più partiti da votare, che il partito è diventato sempre più grande e ha preso la forma della macchina e ha cominciato a inovare tutto, ma era già successo, era già successo prima, nessun paradiso di copricitelli è uscito l'anno scorso, la questione che mi pare questo passaggio chiami è l'idea vera che si possa avere di democrazia, secondo me la democrazia e anche secondo questo testo mi pare l'avere intravisto, è fondata sui individui, quindi sulla possibilità che noi riusciamo a scorgere o a scovare di valorizzare l'indirizzo nella sua originalità, che non è l'originalità di fare un pazzo, di fare un scemo come ci va, che è l'originalità di progettare qualche cosa di nuovo che non sia osteggiato da chi già detiene il potere, che quindi appura preserva queste capacità di essere consapevoli. È ovvio che le figure di cui parlavamo prima, che sono religione, tecnica, economia, ripeto, la rete, non stimolano questi processi, ma tolgono anzi la consapevolezza del sé. E guardiamo, io direi, con grande preoccupazione questo procedere cui andiamo incontro, no, verso l'omologazione, a me personalmente preoccupa tanto, non ditevi che mi discuto di più quando non ho la possibilità, specie quando, no, chi è originale viene considerato male piuttosto che bene. e spero che, insomma, sia, si riesca a preservare l'idia stessa della verità, perché questa società, così come è impostata, tende a basterare la verità, no, e soprattutto diventa possibile pensare addirittura a quello che diceva Orme, lo vediamo in tante cose, si possono fare un'ichitta ad esempio a questo proposito, la guerra è pace, l'ignoranza è forza, la scelitura è libertà, e questo è il più grande crimine che si possa fare contro la democrazia, no, questa è una milizzogna che è legalizzata. Chiudo, subito, perché l'ho finito a più tempo, e a proposito di questa milizzogna legale, dunque, signor Carter, c'è un titolo di tre colonne in prima pagina nel Chronicle, perché l'inquario non ha un titolo su tre colonne? Ma la notizia non è importante. Signor Carter, se il titolo è grande, la notizia diventa subito importante. Questo era un dialogo tratto, a quarto potere, per dirvi che, insomma, ciò che ha visibilità diventa importante, quello che non può averne automaticamente e inesistente. Grazie, Barbara, per questa lucidissima e anche appassionata disposizione. Prima di dare la parola a Elmina, racconto soltanto una cosa che scrive un filosofo moderno, abbastanza conosciuto, forse troppo conosciuto, che è Zizek, la voce di Zizek, che a proposito del rapporto che il filosofo deve avere con la realtà, che l'essere umano deve avere con la realtà, dice, ma lo scienziato la realtà la studia, la studia per poterla migliorare, l'attore la rappresenta, le rappresenta una fiction, il giornalista la racconta per quello che è possibile, e allora Zizek a un certo punto si chiede cosa deve fare il filosofo rispetto alla realtà. Il filosofo deve rompere con il loro. Questa è la definizione precisa che io sento molto mia rispetto a questo libro, cioè tentare di dare fastidio, tentare, lo dico in maniera meno volgare, ma in maniera più tecnica, di decostruire gli ordini costituiti. In questo libro ho cercato, non so se ci sono riusciti in effetti, di mettere in discussione tutti quelli che sono, tutte quelle che sono le nostre certezze, le nostre sicurezze tranquillizzanti, le nostre idee, persino le nostre abitudini. E quindi spero, visto che da piccolo, la finta piccolo, la nota che mi era riconosciuta di più, era quella che si spettano per le palle, spero di averla resa produttiva con questo libro. Ringrazio ancora Barbara e dobbiamo dare la parola a Elinia Gerso. Grazie. Anche qui, cioè anche io, sono qui in vertente di lettrice del libro. E quindi, poiché la mia formazione, cioè io studio lettere, quindi sono abituata a leggere, soprattutto i libri, cioè ho pensato che avrei potuto riflettere a mezzo del leggero e poi portarvele qui, le riflessioni, gli stimoli che il libro offre al lettore. T'assicuro che ci sia riuscito, perché è anche abbastanza fastidioso, a volte mi ha fastidio salutare in questo caso. Quindi cercherò anche di fare, cioè di spiegare soprattutto, cioè di parlare di cui dei concetti fondamentali del libro, ma non esaurerò tutte le tematiche, perché è veramente molto articolato. Allora, se intendiamo parlare di questo libro e di che genere che libro è, possiamo definire, secondo la definizione che ha detto Paolo, di filosofia, possiamo dire che avvenuto di filosofia. Netta si prefigge come scopo quello di una riflessione più profonda di quella a cui siamo abituati su argomenti sui quali siamo certi, abbiamo delle certezze, consolidate. Allora, per fare questo, quindi per smontare e quindi per analizzare, le argomentazioni devono essere trattate in una maniera tale, secondo me, che il lettore si trovi coinvolto. Quindi, il libro è un gesto relazionale, il coinvolgimento da parte del lettore avviene tramite la formulazione delle domande. Se il libro è fatto bene, le domande che leggono poste sono quelle giuste, perché il borsi delle domande giuste è il passo preliminare ed è anche più importante alla pretesa di non ricevere delle risposte, anche se poi ci saranno e le troveremo più tardi. La tesi del libro è basata sull'accostamento, quindi la provocazione viene per l'accostamento. Le tematiche che sembrerebbero assolutamente montane e i relati fra loro. La religione, per caso, lo diceva già prima Barbara, la tecnologia, i media e quindi internet. Tutte queste tematiche hanno in realtà un punto di contatto che si trova ed è da ricercarsi da ricercarsi nell'essere umano che è il creatore di tutte queste le religioni, gli internet, è il creatore di tutti questi sistemi. e il punto che li accumula a tutti è che questi sistemi impediscono all'uomo di essere un soggetto veramente attivo e responsabile sia della propria storia della propria storia individuale sia anche di quella collettiva su vari livelli. La caratteristica dell'uomo che appunto stiamo cercando è quella della percezione di una contraddizione agghiacciante ed è quella allora noi tutti sentiamo che abbiamo un'interiorità una profondità e diciamo ma com'è possibile che prima o poi dovrà finire l'esperienza ci dà la conferma che siamo nati a un certo punto del continuum della storia e finiremo e quindi la morte che più che secondo me più che essere una paura rappresenta un assurdo un assurdo totale il fatto di essere di passaggio in questa terra è quello che ci rende appunto deboli e che ci fa e ci procura una profonda angoscia quindi siamo incapaci effettivamente di affrontare questa verità che percepiamo come assurda e allora ci impegniamo a costruire degli ordini dei sistemi che possano in qualche modo giustificare un fatto che di per sé sentiamo come inaccettabile quasi come se fosse una punizione la religione nella fattispecie si occupa per esempio di sistematizzare un sistema di valori che prima di tutto ci dà la spiegazione di questa cosa della morte allora noi moriamo perché siamo peccatori abbiamo il peccato originale e quindi moriamo non fa una piega le risorse lineare ed è giusto ed è anche più giusto la religione quindi stabilisce una serie nettamente contrapposta di valori che organizzandoli quindi per tutti i fedeli e che si basa su una distinzione netta fra bene e male e questo sistema è accettato perché non è umano perché l'ha stabilito un ente superiore quindi per forza deve essere accettato da tutti è indiscutibile in tal modo tutto acquisto un significato e siccome un significato è sempre più accettabile anche se è crudele di un assurdo ci sta bene così il sistema così concepito è giusto sarà anche crudele però è giusto ed è più giusto di quello reale effettivamente se commetto un'ingiustizia sono punito se mi comporto bene in qualche modo prima o poi sarò pregnato c'è meno decisione c'è meno libertà però c'è anche indubbiamente meno ansia e quindi Dio l'uomo nella diventità cerca la consolazione il riscatto perché questa realtà spesso non fornisce diciamo soddisfazioni alla nostra affermazione come individui quindi un riscatto è anche un soccorso finale quindi la speranza in un soccorso in un premio dopo dopo la morte quindi il sentimento religioso è strettamente connesso alla paura ed è un rilevio pronto già pronto già stabilito ed è molto più semplice di un'accettazione dell'ordine reale quindi l'uomo proietta sulla divinità delle capacità che gli sono precluse prima tra tutti quella di dare senso alla realtà e le proietta una inedità superiore all'essere perfettissimo che le raccoglie tutte e che lo e completa l'uomo quindi è una proiezione lo completa nella sua insufficienza e nella sua inadeguatezza infatti Paolo a un certo punto nel libro dice che noi non ci bastiamo effettivamente non siamo in grado di capire tutto ora e questo per quanto riguarda la religione adesso per collegarmi al discorso della rete perché credo che sia uno degli snodi più anche complicati da capire del libro utilizzo le parole di Paolo così facciamo allora potremmo azzardare una sorta di parallelismo tra il percorso della psicologia individuale e quella collettiva così come nel percorso evolutivo dell'individuo infatti questi ricerca una figura capace di proteggerlo sostentarlo e guidarlo prima nella madre poi nel padre e infine in uno o più dei la psicologia collettiva o sociale dei paesi occidentali è individuata prima nella natura poi nel mercato e infine oggi nella rete quelle dimensioni in grado di fornire senso e potere e ancora cito se dapprima l'uomo aveva creato Dio per assicurarsi una vita ulteriore rispetto a quella interrena oggi ha creato la rete per divilizzare la sua vita terrena per garantirsi quei poteri sovrannaturali che gli consentono di farci Dio già in questa vita la rete che è presente ogniscente e ognipotente almeno l'illusione della nostra illusione quindi per accordare queste tematiche internet come ente superiore tra virgolette perché si autoregola indipendentemente dall'individuo e perché fornisce un domini in cui realizzarsi in questa esistenza ovviamente virtuale in entrambi casi c'è una proiezione anche adesso una speranza e comunque uno spostamento di responsabilità i vantaggi di internet sono sotto gli occhi di tutti e sarebbe anche assurdo contestarli perché nessuno credo ci rinuncerebbe sono gli inconvenienti che però ci aiutano a capire il parallelismo con la religione e andiamo a vedere lì allora l'utente nella postazione di internet è isolato crede ma non sa utilizzare il magma caotico delle informazioni compresenti che lo circonde lo travolge pensa di cercare di trovare delle informazioni però in realtà quello che cerca è il perdersi quindi e tra l'altro si chiude di conquistare una dimensione personale più soddisfacente finalmente libero dal carico di una realtà opprimente che spesso non lo riconosce neanche nella sua identità individuale questa comprenenza caotica in realtà rappresenta lo stacolo fondamentale alla comprensione vera dei fatti non sto dicendo che in Italia possa avere delle funzioni discutibili però se uno vuole capire la realtà diventa più complicata la comprensione dei fatti della realtà si basa sullo svolgimento lento e conseguenziale di un pensiero suale tempo se facciamo il confronto con la lettura di un libro che rispecchia maggiormente il meccanismo del ragionamento umano vediamo come nel libro una frase segue l'altra e sono collegate in maniera conseguenziale senza la comprensione della prima non sia la comprensione della seconda e questo processo richiede tempo e concentrazione mentre la modalità invece della rete è la distrazione e richiede che ci si concentri su un anno momento alla volta alla fine di questo procedimento è il collegamento quello che favorisce la riflessione vera collegare anziché isolare come dice Paolo è il pensiero umano il vero lavoro intellettuale che è il superfono alla rete se si pensa che la percezione umana inizialmente è basata sulla percezione dello spazio e del tempo può sembrare una banale si capisce come il medium della rete impedisca una ricostruzione articolata dei fatti e quindi annichilisca il senso critico perché? perché la comprensione in rete è intuitiva e quindi non è ragionata e logica e soprattutto è velocissima quindi prevare la distrazione sull'approfondimento e prevare il vedere sulle capire quindi ogni informazione istantanea puntiforme è un punto lo dice anche Candisi è assolutamente scollegato e quindi è irrelata ed è soprattutto è staccata da un contesto semplificata e astoricizzata cioè non ha una non ha una causa non ha una conseguenza il contesto rimane sullo sfondo inattingibile tutto è troppo basso come se fossimo affetto da una sorta di agorafobia virtuale e la funzione è passiva cito questo tipo di passività è più pericoloso di tutti perché si tratta di una passività non colpevolizzata dal soggetto che invece si illude di essere pienamente attivo navigante e padrone del mondo reale attraverso le servitose potenzialità che gli vengono a disposizione da quello virtuale l'illusione iniziale degli hacker che avevano apertati e hanno anche realizzato l'intere era che le energie individuali fossero veramente libere che la sovranità dell'individuo fosse veramente garantita liberata dall'interferente dei poteri ormai consolidati e negli altri agli altri passati l'uguaglianza democratica e al sicuro dal potere egoistico dei pochi e la libertà secondo loro era dimostrata dal fatto che la partecipazione era universale e attiva ma non tutti hanno i internet per esempio prima obiezione la domanda di Paolo è quanto invece si sia riprodotta in forme rinnovate e più sofisticate quella logica del dominio che ha imperato nelle fasi precedenti del capitalismo come in un dramma di Becker che è il dottore dell'assurdo siamo felici se ci illudiamo che il tempo e il progresso conducano alla fine oltre che avvantaggi materiali anche alla scoperta di un senso di cui abbiamo bisogno e di un ordine che giustificherà tutto tutte le nostre azioni il meccanismo a cui si arriva secondo Paolo che poi viene anche è un meccanismo postumano è impersonale che risucchia tutte le nostre energie ma perché noi le attiviamo e che riesce in qualche modo a guadagnare il nostro inconscio eppure l'informazione vera c'è preclusa perché a paraggio di quei pochi che hanno preconfezionato l'informazione e le hanno condivise in rete se ci pensiamo se si va su wikipedia i link sono già per il termine uno parte per cercare un film di Marco Ferreri e non si sa dove arriva magari tutti questi valori guida attività responsabilità e creatività dell'etica hacker siano comunque presenti in quel magno indistinto e anticomprensivo che la rete certamente sono notevolmente minoritari rispetto ai controvalori capitalistici come il profitto la commercializzazione il non rispetto della privacy per fini commerciali l'omologazione la passivizzazione mentale pratica della stragrande maggioranza degli utenti ho citato Paolo quindi come risponde e adesso qui vengo veramente alla reazione di lettrice come risponde il libro a tutte queste tematiche prima di tutto con la sua stessa presenza perché denuncia però lo fa con una modalità contraria a quella che denuncia è ben articolata prima di tutto ed è il contrario che propone una lettura della realtà che ripristina le categorie per esempio temporali considerando vari avvenimenti come l'11 settembre e altri vari avvenimenti della storia di questi come aspetti della realtà collegati tra loro non separati alla fine si ritorna al punto iniziale è bello perché c'è la tesi iniziale poi ci sono dei nodi che racchiudono ogni volta tutte le varie considerazioni come se la tesi partisse poi nel suo percorso circolare si mettesse in discussione e poi alla fine tornasse a riverificarsi quindi collega anziché isola e quindi confronta e quindi favorisce la riflessione ora quello che mi interessava anche me il tema fondamentale che mi interessa di più è quello della religione io sono aria però mi interessa molto e volevo fare dopo aver detto il contatto tra la rete e la religione volevo anche dire le differenze allora c'è sempre un tentativo di porsi cioè di creare un sistema che è grande dell'individuo che però l'individuo crede essere finalizzato a lui però sempre il fedele Dio è il senso ultimo e se prima lo senta sempre dentro di sé c'è comunque nella religione una proiezione verso l'esterno credo verso l'alto mentre il teatro dell'internet si sente forte di un'autonomia e di una capacità di dare senso alla propria identità tramite la rete però non ha sempre su se stesso anche la la dicevamo prima la sfida relazionale mi è preclusa perché è sempre più protagonista di un'esperienza obbligatoriamente si crede al centro del mondo però in realtà è un'altra casa davanti al computer e tra l'altro esorcizza la paura della morte credendo di identificare la vita tramite la rete la vita che la vita rende la significativa al massimo questa è una bella azione Montaigne diceva che la meditazione della morte è la meditazione della libertà per cui chi ha imparato a morire ha disimparato a servire e Canetti diceva che la morte non va accettata assolutamente però vivendo da uomini la vita però probabilmente non va neanche ignorata quindi economia tecnica religione sono dei creatori di sensi preconfezionati che presuppongono l'allenazione dell'uomo e limitano la sua responsabilità alleggerendo dall'olio ogni volta di pensare a cosa giusta e a cosa sbagliata e di dare ogni volta mettere in discussione il proprio senso il proprio perché quindi sono un rimedio pronto ed efficace ora Paolo non è che voglio condannare tutti che questa vita è veramente fermata però ci dica se non altro a considerare a considerare tutte queste cose in una modalità differente non siamo totalmente liberi di muoverci rovi per esempio come pensiamo ci sono dei sistemi più grandi di noi assolutamente umani anche se ci danno di un genere di essere governati dalla mano visibile che tentano di tenerci fedeli a loro per degli scopi umani anche questi la consapevolezza la risposta cerchiamo delle risposte non del libro la consapevolezza è una di quelle risposte il cittadino consapevole l'essere umano consapevole della propria non libertà è più libero del cittadino inconsapevole dell'essere umano inconsapevole si può essere o meno d'accordo con dell'interpretazione dell'indice settembre con tutte le altre tematiche affrontate nel libro però quello che si prova è quello di tutta la parola all'inizio è quel fastidio quel sentirsi mettere ogni volta in crisi che è veramente il motore della finalizzazione il libro quindi è l'oggetto veramente relazionale ma anche un dibattito come stiamo facendo adesso quindi la cosa sulla quale siamo invitati da Paola a metterci in crisi non sono dei fenomeni contingenti cioè si lo sono ma preliminarmente in realtà sono le grandi domande che l'uomo dovrebbe sempre porsi pur senza trovare risposte spesso i grandi interrogativi che ci rendono umani e non bestie per compiere tutto questo probabilmente non ci senterà l'uomo ce lo saremmo l'avremmo pensato tutti e già i letterati i filosofi gli antropologi avranno in mille forme e si sono già fatti le stesse domande hanno già fatto le stesse riflessioni allora la domanda è l'altra domanda un'altra perché continuano a scrivere i video come questo e perché noi dobbiamo o vogliamo ancora leggere perché dobbiamo continuamente interrogarci su queste tematiche perché sono queste le domande che ci togono da noi tentano di toglierci da uno stato di minorità e di brutalità se l'avessero scritto loro il libro forse l'avessero scritto meglio perché sentendo queste considerazioni sono rimasto colpito ho preso dal metto un altro punto che quasi quasi mi scrive un altro però ci metterò nel tempo io aggiungo soltanto delle considerazioni ci metterò pochissimo tempo perché loro credo che abbiano veramente sfornito una chiave di lettura pur senza svelare poi il libro abbiano sfornito una chiave di lettura importante qual è il fulcro di questo libro secondo me è il rapporto tra l'uomo e il potere che si intende per potere per potere si intende o almeno mi intendo tutto ciò che è in grado di dirci cosa pensare cosa fare il potere sostanzialmente nell'infondire l'uomo è assoluto in due modi secondo me cioè quando noi crediamo ciecamente a qualcosa non la mettiamo in discussione non la critichiamo in quel caso è un potere maggiormente intellettuale l'altro modo che ha il potere di qualunque potere che sia un'altra persona che ha potere su di noi o che siano i grandi potenti della storia se il primo modo dicevo che ha il potere di essere assoluto nei nostri confronti è quello di farci credere ciecamente a quello che esso ci dice l'altro modo che ha qualsiasi potere di essere assoluto nei nostri confronti è quando noi affidiamo la nostra vita a quel potere io credo che oggi soprattutto con la rete noi non so quanto consapevolmente o meno stiamo affidando tutta la nostra vita perché noi attraverso questo medium non a caso è un medium attraverso questo intermediario noi facciamo esperienza della nostra vita non è più un'esperienza diretta non conosciamo più le altre persone o quanto meno non ho la maggior parte delle altre persone non le conosciamo più nella maniera umana con i tempi umani con le modalità umane noi sentiamo il tono di una persona vediamo gli occhi di una persona quando ci parla sentiamo persino l'odore di una persona perché comunque c'è una chimica nei rapporti umani tutto questo non sta avvenendo più noi possiamo conoscere milioni di persone anche in lontani chilometri da noi superiamo le varie spazio-temporali e in questo diventiamo vaste delle divinità perché cos'è che ci fa essere umani i limiti ma la rete ci permette di superare quei limiti purché ci adeghiamo ai suoi modi di funzionare la rete non funziona questo intermediario non funziona come l'essere umano la domanda da corsi questo intermediario lavora per noi fa effettivamente il nostro interesse ci dà veramente qualcosa in più che non avremmo se non ci fosse questo intermediario io cito sempre due una è una parabola una è un mito molto famoso credo che siano due modi in cui il potere funziona ai nostri confronti una è una parabola buddista che racconta di un re dell'India che raccoglie un giorno tutti i cechi della sua città le persone non vedenti e gli porta un elefante ovviamente glielo ho fatto piangere i cechi non possono vedere l'elefante lo toccano e poi il re gli sottopone la domanda ma com'è un elefante e ognuno dei cechi risponde in base alla parte dell'elefante che ha toccato chi ha toccato la coda di racco di elefante qualcosa di peroso lungo chi ha toccato la testa chi ha toccato la proboscere chi ha toccato la zappa e a un certo punto questi cechi ovviamente cominciano a litigare a litigare furiosamente ma insomma no l'elefante è così no in quest'altro modo no è questo e il re intanto se la vive questo è un modo che ha il potere quello di questa paracola secondo me rappresenta un modo che ha il potere di comportarsi nei nostri confronti cioè quello che loro sappono qual è la realtà noi siamo resi cechi dalla realtà e possiamo soltanto litigare pensare di possedere tutta la realtà quando noi dobbiamo essere consapevoli dobbiamo essere umani possediamo soltanto una piccola parte di verità che è quella piccola parte che abbiamo potuto toccare o semplicemente toccare tra virgolette con la nostra mente che è una mente limitata si può essere cechi perché non si vede ma qui interviene l'altra grande parola che è tratta dal libro della camera di prodone come insegna a padone si può anche essere cechi per troppa luce le malattie degli occhi sono di due tutti o si è cechi perché non si vede perché c'è il murio o si è cechi perché c'è troppa luce mentre il potere di una volta i poteri di una volta avevano noi in Italia lo sappiamo bene perché viviamo in un paese di stragi risolte di misteri risolti di casi che non trovano soluzione una volta il potere aveva la facoltà di dominarci rendendoci ciechi cioè facendo sì che la dimensione del buio della non conoscenza fosse la dimensione che caratterizzasse la maggior parte dei cittadini delle persone oggi con queste nuove tecnologie il potere funziona come viene descritto nel mito della caverna di Pradone veniamo resi certi dalla troppa informazione come dico in un passo del libro che è stato citato questa è l'epoca in cui sappiamo tutto ma non conosciamo nulla grazie a un motore di ricerca un computer acceso e messo su un motore di ricerca noi in pochi secondi abbiamo la possibilità di avere un miliardo informazioni su qualunque cosa questo vuol dire che noi effettivamente quelle cose le sappiamo e questo credo così come ha detto sia Barbara che Ermia è un po' la cifra importante che lega il rapporto che c'è oggi tra il potere e l'essere umano mi si potrebbe dire chi è il potere e io lo dico chiaramente nel sottotitolo per me oggi i tre grandi poteri sono il potere tecnologico o tecnocratico per dirsi voglia il potere economico e noi lo stiamo vedendo noi viviamo in un paese in cui il nostro presidente del consiglio incaricato oggi non si vergogna di dire io non ho problemi nei confronti dei cittadini io devo rispondere soltanto ai mercati viviamo in un'epoca in cui il benessere di un paese si misura con un numero chiamato prodotto interno mondo non si misura più con la qualità della vita dei cittadini se questo non è aver delegato una dimensione umana o un potere a cui dell'uomo non gli non importa nulla dite di voi qual è l'altro caso la rete è il terzo potere che li ingloba un po' tutti perché la rete che abbiamo detto è sia quell'elemento che ci dice che cosa è che cosa non lo è ma è anche quell'elemento ormai sempre più indispensabile dell'intermediazione tra noi e la nostra vita noi cerchiamo informazioni da una persona che conosciamo le altre persone da una persona che ci dà in contatto con i nostri cari da una persona che in questo testo vengono citati studi di neuropsichiatri e neuropsicologi che dimostrano come molte volte per esempio quando uno mi obietta ma io ho un figlio che vive lontano ho un parente un caro amico che vive lontano se non ci fosse la rete che mi permette di tenere in contatto con questa persona io come farei eppure è dimostrato dagli studi psicologici che vengono fatti che immediatamente dopo che la persona ha come dire interloquito con il parente lontano con la vita lontana con la persona amata lontana come spegne il contatto sullo schermo subentra uno strato di depressione ancora più grave queste tre dimensioni che ormai sono tre vele e propri nipi della nostra epoca contemporane sta creando un mondo in cui credo citassi se ha bisogno dell'uomo ma non della sua umanità hanno bisogno di noi perché noi dobbiamo dare il voto noi dobbiamo comprare noi dobbiamo produrre noi dobbiamo rispettare quello che ci viene detto ma non ha bisogno di questo potere della nostra umanità non vuole l'essere umano non è solo quello che produce che compra che vota che esprime con senso di senso l'essere umano è anche quello che prova passioni prova emozioni quello che pensa con la propria testa quello che mette sotto una luce critica qualunque cosa quello che scelte di fare la scelta di vita scusate il gioco di parole alternativa qualunque essa sia noi secondo me ci stiamo avviando sempre di più verso un mondo non umano in cui le caratteristiche principali dell'uomo non trovano spazio non trovano casa non trovano riconoscibilità queste tre grandi dimensioni come credo che Barbara e Emilia hanno abbondantemente descritto queste tre dimensioni internet il mercato e un certo tipo di religione sono le tre dimensioni che dimostrano questo fatto cioè il fatto che si sta passando verso un'epoca postumana in cui l'uomo non è più l'attore della grande rappresentazione che viene fatta e che noi chiamiamo vita questo credo che sia un motivo per cui preoccuparsi di contenere grazie applausi 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 io applausi sarebbe piacere che ci fosse un tipo di impatto insomma interventi considerazioni che quello che rimanete in generale è sempre un momento difficile perché nessuno si è tardi però sarebbe bello se lo facessi per perseguire proprio lo spirito dell'inizio non ci sono questioni domande è tutto piano siamo stati insieme una domanda anche Paolo ma io ho un buon intervento per rompere il ghiaccio perché occorre sempre qualcuno prende la parola poi magari non dice quasi nulla per una ragione molto semplice io mi sono procurato il libro a Roma qualche giorno fa ho fatto una lettura molto frettolosa mi propongo adesso di leggerlo attentamente e poi anche di scrivermi come ho detto a Paolo ecco da quello che ho letto effettorosamente e da quello che ho sentito qua stasera dico subito con grande sincerità che il mio dissenso è quasi totale è quasi totale ma questo Paolo lo sa perché insomma ci conosciamo e vorrei soltanto dire due cose in attesa però ripeto di poter dare un giudizio scritto molto più documentato cioè non sarebbe serio da parte mia giudicare come lì l'ho letto in fretta superficialmente due cose intanto ho sentito questa sera considerazioni sul post human a mio parere discutibili una decina di anni fa uno studioso italiano molto valido Roberto Marchesini ha scritto un bellissimo libro sul post human pubblicato da Bollati Borindieri questo libro andrebbe retto con grande attenzione è stato dato stasera un'immagine del post human a mio parere molto stereotipata e semplificata il post human il pensiero post umano tra l'altro da non confondere con quello che invece viene denominato trans human implica processi di libertà e di apertura a mio parere molto importanti e questa libertà e questa apertura ci è data proprio dalle nuove tecnologie e quindi le nuove tecnologie non sono alienazione ma sono possibilità di esplorare dimensioni dell'umano che l'umanesimo tradizionale rifiuta ma rifiuta per paura della libertà il libro di Paola questo io lo sapevo prima ancora di leggere ripeto superficialmente nel suo ultimo libro è il libro di umanista Paola è umanista ma non è questo come dire non è un risulto perché si inserisce in una tradizione illustre si inserisce nella grande tradizione dell'umanesimo occidentale e naturalmente di fronte a certi fenomeni della contemporaneità manifesta perplessità e timori che possono essere anche di parte giustificati però lo sguardo di Paolo è fissato mi pare sul presente certamente ma sul presente visto alla luce di un passato che forse egli teme realizzare io sono vecchio ho conosciuto la società preindustriale sono vissuto in una unità in via agricola pretecnologica non c'era nessuna comunità armoniosa c'era disuguaglianza sfruttamento disprezzo per i deboli e immaginazione molto più che nelle società del capitalismo avanzato Pasolini mi dispiace dire la mia parere è un esponente del pensiero reazionario italiano contemporaneo non ci può essere maestro di nulla è un uomo che guarda al passato ma ripeto queste sono mie considerazioni sulle quali credo la maggior parte dei presenti ti sentirà io da vecchio liberale sostengo che il mercato e la storia ne è la controprova con tutte le sue durezze con tutte le sue ingiustizie è una garanzia di libertà non ho mai conosciuto società senza mercato che garantissero i fondamentali diritti civili politici ritengo che le nuove tecnologie ripeto siano uno strumento di liberazione ritengo che l'esperienza religiosa non quella delle chiese ma l'esperienza religiosa in sé sia un grande momento di libertà lo dico da non credente lo dico da ateo però ritengo che l'esperienza religiosa non quella delle chiese burocratiche dogmatiche autoritarie perché purtroppo abbiamo una tendenza a identificare la religione con il cattolicesimo ma l'esperienza religiosa non è il cattolicesimo come noi lo conosciamo e quindi può essere un'esperienza di contestazione profonda della realtà così come molto spesso i grandi movimenti rivoluzionali della storia sono nati proprio da un sentimento religioso che contestava le religioni istituzionali dell'epoca ma un'ultima considerazione che vorrei fare è tornare a dire leggete il libro di Paolo intanto perché i libri di Paolo si leggono sempre bene sono scritti con chiarezza come si è detto con imbacità e quindi compratelo è importante anche questo leggetelo si può essere d'accordo si può essere disaccordo ma spesso poi i libri più utili per noi sono i libri con i quali non si è d'accordo è attraverso noi il contrasto delle idee che poi può nascere qualche cosa di nuovo e c'è un tema che mi ha colpito e su questo poi voglio tornare con calma leggere con attenzione il tema della morte è un tema ne parlava anche la nostra Giovanni Svortessa credo che il tema della morte sia il tema fondamentale del libro di Paolo e che tutte le sue considerazioni nascano da questa questione così come dire inaudibile e così esorcizzata e di fronte alla quale sì effettivamente il mondo contemporaneo più di altre epoche ha una reazione di fuga di occultamento e questo è indubbiamente vero e su questo bisogna riflettere perché non non cosa cosa che tutte le volte che in un pubblico a discussione ma anche parlando privatamente con gli amici si introduce in questo tema c'è una sensazione generale di imbarazzo e di fuga la religione è certamente legata al tema al tema della morte Paolo dice anche internet e il mercato sono tentativi di fuga della morte di esercitazione non so se questo è vero perché che nel mercato inteso alla maniera di una IEC quindi un mercato che poi nella realtà non esiste è una costruzione ideologica ci possa essere un qualche rifugio anche illusorio dall'angoscia della morte mi sembra improbabile e in quanto a internet ma poi l'onipotenza di internet come le pretese di onipotenza di qualunque altra ideologia si infrangono contro la realtà inedibile della morte o meglio dell'attesa della morte perché in realtà la morte non si vive si vive l'attesa della morte l'anticipazione della morte per usare le pretensioni di Heidegger e questo tema è il sottofondo del libro di Paolo e in qualche modo concludo anche lui scrive un libro per esorcizzare attraverso la polemica con internet con la religione con la rete questa segreta angoscia della morte io gli auguro che un giorno scriva un libro direttamente su questo tema senza passare per argomenti che in qualche modo lo velano ad ogni modo leggetelo questo libro è il meta di essere letto e si legge con piacere questo lo dico con grande sincerità grazie 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 quello che dice Paolo c'è una malattia nuova una malattia nuova che ha una dipendenza lei mi ha detto e questo non l'ha il dedicato Paolo non ha questa capacità lo vuol dire che non è il mezzo in sé ma è l'uso che se ne fa come una macchina che serve per spostarsi ma quanti ragazzi fanno della macchina e lo dormito con conseguenze fagiche credo anche che c'è un punto importante lo so del Paolo l'ha detto prima c'è l'unico modo perché non diventi Dio né interne né altro atto di religione essere consapevoli e questa consapevolezza secondo me aiuta anche a vivere la morte perché se si ha paura della morte diventa un Dio la morte perché non Dio si ha paura e si prega per chiedere una vicinanza affettiva quindi dobbiamo vedere gli strumenti che la città ci dà con un certo elemento di miglioramento ma dobbiamo sapere che se l'abbiamo prodotto noi guarda dimendicare questo e mi pare che Paolo dica il dramma a volte che l'uomo dimendica che l'ha prodotto e si è fatto dure quindi in questo dilemma secondo me è interessante inserirsi come gli adori come psicologi come psicologi come politici quindi tutto quello che l'uomo ha costruito l'ha fatto come dire per se stesso per migliorare la propria vita ma c'è un prezzo allora se diventa l'unico ci sono ragazzi che vanno al pagno portano sul computer e c'è una cosa che non funziona c'è un'incapacità intornata nel reale allora se si è consapevole si può anche usare il computer che può darsi sicuramente accesso a dimensioni spaziali o intensali però se questo computer poi ci togne come dire se si usa 10 ore al giorno o mezz'ora va bene ma se si usa 6 ore c'è un appartino che si ne va e penso che parlo un libro se non ho letto soltanto ascoltato la presentazione a lunedì stasera però sicuramente è giusto riflettere se non si riflette mai su quello che si produce al fine non esistiamo più noi e diventiamo non una merce quindi su questo è parte di farlo pongare le questioni importanti perché è stato bravo in un modo di noto in questa stazione buonasera studiamo perché avevo voglia di essere presente ma cercando di capire che posso capire condivido fortemente la la bravura di Barbara e di mio non è facile affrontare le mani di questo libro che non sono facile anche io ho letto in fretta io da giovane facevo la presidenza quindi fosse come un punto di vista parziale come un po' come di tutti e percezioni la prima molto personale mi sembrava di essere tornati tornata ai tempi dei fine anni sessanta quando io frequentavo l'università in Urbino c'era un giovane minimo lo surdo non so chi lo conosca il professore bellissimo tra l'altro sul segnale e si discutiva di questo nel senso che è sempre stato presente sia in Urbino come in università in un senso molto più ampio questo gruppo questa corrente questo insegno di persone che io percepisco e che tu scusi non mi dico come disperate disperate di fronte a questo mondo che qualche volta è la disperazione ma non è soltanto la disperazione tutte le cose tutte le affermazioni che Paolo fa sono condivisibili non come certezze ecco questo fosse un elemento sul quale io non mi trovo ma come un rischio reale che si deve affrontare ma non con un dato certo inutabile non è un grido non deve essere un grido un urlo perché poi il grido un urlo produce un urlo uguale a un carico e pensavo che la parte del testo a cui riconosco un grande impegno mi confronto il grido ve lo pure perché c'è un sviluppo logico storico e filosofico un po' troppo politico secondo me c'è alcune affermazioni filosofiche che sono condivisibili quelle politiche un po' meno se se riesco a non suscitare la rabbia e l'uditorio io direi come una battuta c'è un po' l'abistocrazia dell'estremismo che mi hanno intusato detto questo un'ultima cosa lo diceva prima il professore che non la conosco ma l'ho ascoltato con molto interesse io non appartengo sono un po' meno vecchio giovane però io fino a dieci anni abitavo in una casa senza acqua andavo alla fonte a prendere l'acqua con l'occhio e mi raccognavo pure oggi i miei amici che mi conoscono lo sanno dico oggi ho anche la doccia certo nessuno ti regala niente questo fosse tutto un prezzo qualche volta è stato quarto per un prezzo che si capisce se si ha consapevolezza ma non è vero che si perde la consapevolezza Paolo Paolo se uno ce l'ha ci fa i conti sempre e comunque quello che sta dicendo mia sorella signore no nel bagno con tutto è vero ma quello è un'avvergazione che fa parte comunque ma non è l'unica realtà quindi ripeto bravo come incercatore io dissento politicamente perché mi pare che c'è un qualifismo io non sono liberale sono ho fatto politica quando ero giovane non la faccio più da tanti anni sono però una persona ottimista con attenzione ma ottimista che ho circine umane diversamente dovremmo accettare i suicidi di massa allora in bocca al lupo Paolo perché tu vieni da tanti libri in bocca al lupo per una vita un po' più allegra in bocca al lupo perché non vorrei che alla fine tu che critichi lei che lo scusa ma sei così giovane lei che critica il conformismo non dimenti che c'è anche un'altra forma di conformismo che è l'anticonformismo vi ringrazio grazie a tutti grazie grazie a super responsabilità che c'è un terzo intervento che c'è un terzo intervento il mio ora vedete la parola devo vedere più di più le idee io provo a rispondere velocemente se non ci sono altre però eh ah non si sente provo a rispondere velocemente alle questioni ma in realtà c'è poco credo da rispondere nel senso che ci sarebbe tantissimo e non abbiamo pensato a meno io non riesco così brevemente a rispondere a questioni così alte e grande registro diciamo così alcune cose che tutto sommato vi danno una spinta ad andare avanti intanto l'essere stato eh benevolmente e anche con una certa potevolezza criticato sia da chi proviene dalla tradizione liberale sia da chi proviene dalla tradizione comunista la qualcosa a pensare che forse sto andando nella direzione giusto e che tanto politico devo essere evidentemente perché credo che marchi i democristiani insomma non so credo sia per questa cosa e credo che ci siano delle cose che vanno intanto nego categoricamente e sfido in senso buono e affettuoso chiunque a pensare che questo è un libro politico sfido chiunque a dimostrare che in questo libro ci sia una sola proposta politica io non propongo né di abolire qualcosa né di sostituirlo con qualcos'altro non credo che il mercato vada eliminato non credo che vada eliminato la rete e tutto sommato non credo che vada eliminato neanche la religione e se anche lo credessi non cambierebbe nulla perché già altre persone illustri prima di me avranno decretato la fine della religione tanto da la religione non finisce perché è una cosa connaturata all'essere umano quindi diciamo non ho delle pretese così alte la morte io credo che Paolo abbia ragione il professor Bonetti che io scusa per l'eccessiva confidenza ma insomma io credo che abbia la morte la morte è sicuramente il tema importante del mio libro però attenzione non la morte intesa come fine della vita a me spaventa la morte da lì perché io nella mia breve vita ho imparato che la morte peggiore è quella che fanno i diri si può morire con grande onore ma non si può smettere di pensare con grande onore e credo che il compito di ciascuno di noi sia quello di mantenere accesa questa cosa che è chiamata critica che come tu Paolo meglio di me anche la professoressa che mi ha preceduto sapete viene da un verbo greco molto importante critica che potete scegliere a me spaventa un mondo in cui una persona che tenta di criticare gli aspetti così importanti della nostra contemporaneità che sono la rete la religione il mercato crea scandalo o che venga diciamo così tra virgolette accusata di essere tra molte virgolette o apocalittico o una sorta di estremista per di più aristocratico che vuol dire estremista aristocratico nel senso che quando i comunisti erano estremisti perché c'era il partito comunista erano estremisti popolari adesso il partito comunista non c'è più sono estremisti aristocratici mi sfugge un po' questa cosa mi spaventa quel paese in cui le persone che tentano di criticare qualcosa in maniera documentata e portando degli argomenti concreti faccia scandalo un mondo in cui chi tenta di fare uso della critica crea scandalo è un mondo infelice perché tutti noi dovremmo sempre mantenere accesa questa facoltà che abbiamo che è quella di tenere accesa la nostra mente troppo spesso noi oggi ci troviamo ad accendere dei mezzi e a spegnere il cervello sembra una stermazione banale ma in realtà viene riportata dagli studiosi viene riportata dagli psicologi dagli euro psicologi è un meccanismo che si crea si accende il mezzo si spengono i filtri cognitivi le attività cognitive io non sono un estremista non sono un estremista perché non propongo nulla io propongo qualcosa di estremamente liberale ed è questa la mia risposta fondamentale a Bonetti io propongo qualcosa di estremamente liberale propongo una soluzione individuale cioè io sarei felice il mio obiettivo è questo poi magari è un obiettivo che non ho raggiunto se ogni persona che lega questo libro finisca di leggere questo libro sentendo di avere un'energia in più per se stessa ed ecco è l'energia che fa sì che quella persona non accetti più le verità che gli vengono imposte dal mercato della comunicazione non accetti più di lasciarsi sottomettere per esempio dalle logiche del mercato sarebbe ora che i nostri giovani ai quali io ormai non pertengo più avessero la forza di non rassegnarsi al fatto che devono subire dei contratti a tempo determinato che li privano di qualunque diritto sarebbe ora che le persone più giovani recuperassero quella forza quella quella energia che hanno avuto i nostri barri i nostri nonni nel creare un mondo in cui anche i più deboli fossero tutelati in cui la sanità la previdenza sociale chiamata pensione in cui la scuola il diritto all'istruzione il diritto a potersi a poter aspirare a un futuro migliore rispetto a quello in cui si è avuto la sfortuna una fortuna di nascita fosse qualcosa per cui valeva la pena vivere se noi perdiamo queste cose qui dopo si dice che molti ragazzi sono primi di grandi volontà primi di grandi disegni primi di grandi utopie ma d'altronde se ne abbiamo tolto l'utopia più grande che è quella di poter avere il futuro quale altra quale quali giovani possiamo mai immaginare che abbiano voglia di pensare liberamente abbiano voglia di pensare con la propria testa abbiano voglia di criticare il mondo in cui vivono noi oggi ci stiamo facendo sottomettere a quella che lo ricordate è mia che viene chiamata la logica del dominio oggi sempre di più le persone si lasciano ci lasciano dominare da delle consuetudine che stiamo accettando passivamente non dobbiamo avere più tutele nel lavoro che facciamo non dobbiamo avere più il diritto di poter pensare al futuro molti non hanno più il diritto per chi ci crede neanche di poter creare una figlia che non c'è più oggi sono tutti bravi a dirci dobbiamo diventare più flessibili dobbiamo accettare questa flessibilità ma poi quella persona che va in banca sa benissimo che non gli danno neppure un mutuo se non dimostra di avere un contatto a tempo indeterminato e pare più come noi ragioniamo di tempo che cos'è qual è la differenza tra un contatto a tempo determinato e un contatto a tempo indeterminato non siamo tutti precari in questa vita dobbiamo giustamente tutti andarci nella questa vita e quindi la differenza qual è? la differenza siamo noi la nostra capacità di creare un mondo in cui ci siano delle regole che tutelino tutti soprattutto i più deboli soprattutto coloro che non hanno la forza la capacità di imporsi in un mondo che vuole essere sempre più selettivo e a me la selezione non piace credo che la selezione intesa in questo senso la selezione dei liberisti come diceva Barbara non appartenga né alla migliore tradizione liberale né alla migliore tradizione comunista e questo qui concludo il mio attacco fra virgolette a queste tre realtà cioè la religione a una certa religione alla legge al peccato non è un attacco volto a eliminarle volto a proporre un mondo comunista volto a proporre un mondo io non voglio non voglio questo io vorrei è la mia utopia è la mia forma di umanismo aristocratico se così non si può dire non so se è aristocratico io mi auguro che diventi democratico cioè la mia proposta è quella di un umanismo in cui ciascuno di noi con i propri mezzi con le proprie capacità con la propria cultura la cultura questo l'avete detto in tanti libri la cultura è anche sempre fare la pasta cosa che è sempre meno persone che hanno fatto io credo che valga la pena e credo e spero che questo libro aiuti a farlo valga la pena di tentare singolarmente individualmente di recuperare un mondo in cui ci sia bisogno dell'uomo ma ci sia bisogno di un uomo umano che non sia sottoposto sottomesso alle logiche del mercato alle logiche della tecnologia e alle logiche di una religione che sempre di più ci vuole dire dove sta la verità e ci vuole costringere a fare quello che dice in nome di quella verità che conoscono solo le altre sere ecclesiastiche basta grazie grazie a una prossima grazie 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 grazie